Ed eccoci a Porto, Barcellona si è giocato in mezzo a un diluvio, campo allentatissimo, pioggia battente con uno scatenato Joary, eccolo, il giocatore che abbiamo visto per tanti anni nel campionato italiano neoacquisto del Porto ha portato la formazione portoghese al successo ecco ancora il raddoppio di Joary che poi va verso la bandierina del calcio d'angolo secondo la sua tradizione ma il 3-1 non è bastato a superare il Barcellona perché il Barcellona aveva vinto all'andata per 2-0 e quindi in virtù di questo gol che stiamo per seguire segnato da Archibald al 33esimo del secondo tempo il gol dello scozzese è quello che consente al Barcellona di superare il turno nonostante la sconfitta che poi diventa più pesante nel finale perché ancora Joary ottiene il gol della vittoria netta però inutile 3-1 del Porto ma passa il Barcellona nonostante la tripletta dello scatenatissimo Joary Grazie 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 Grazie